Ciao a tutti sono Poi e vi metto in questo nuovo video, vi dirò la pasta e faremo anche un bel giretto per la villa Picchia duro Lispod Ciocco scritti Ok, adesso invece che risponde si dovete dire di no E questa è la password, però io dico si e quindi Quindi state attenti, questo deficiente vi dirà dove sono Che idiota Anch'io ho tre parole per te Sei un idiota Facciamo il giro per le stanze Allora i gemmi dica Ti senti di scrivere le parole, ops, ma le so già Le ho detto all'inizio del video le parole Picchia duro Golispon Ciocco scritti E no No Strana sta stanza Tutto questo di plumere Sì magari di plumere, beh, usciamo bene perché ci becchino Stanno ci facciamo un po' di ginger Queste due hanno rattato ed evoluzione Fortuna che ci affrontano una volta Ti senti di provare Sì Grazie a tutti. Non mi sembra un idiota, ma ok? Ora qui siamo giusti qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, non parlate con i tizi che guardano i muri, che sennò vi sfidano. Ok, non parlate con i tizi che guardano i muri, che sennò vi sfidano. Mmm, stanzetti in ordine. Ciao tizio. Tizio? È morto. Bene, andiamoci prima che mi consiglio di omicidio. Piedere. Piedere. chi saluti chi saluti è quello che ti saluta, è ottimo che è autostima è meglio andare troppo come un attimo intanto ci facciamo una chiacchierata con i tizi chi li ammazza ti ribotte lo chiederei anch'io non mi ricordo di questa entrata che bello qui panno disegnato disoprato, attento rischi di cadere attrivo in fondo, non mi ricordo che c'è una propria non so io non ti voglio parlare tranquilli se volete uscire potete uscire comodamente non è che non si è fatto per bene spi mi chiedo se sticcono cosa succede già si si prendiamo dal capo lei è stata a parte non ti riprovi due di me picchi e duro devi dire no però ho fatto un complimenti grazie come ancora ci è arrivata la veniccia fin qua non ti riprovi due di me